ciao a tutti e benvenuti in questa nuova specie di fosse di reaction come non so come chiamato ho detto nel primo video comunque reaction della canzone di noella carote datemi solo un'auto un attimo sto facendo il video sopra la macchina e niente questa volta ho già lasciato a gabbè infatti su questo video lo sto registrando l'indomani che ho caricato quel video praticamente questa è la canzone già io già dall'immagine presumo che questo ha serie problemi ma non diciamo altro andiamo a vedere il video ok forse ok e prende bene come ma si blocca ok non so perché il video si blocca ok forse perché la qualità è anche messa troppo alta lo riapro non è nuova carote carote solo carote le regalo a mio nipote diventano banconote le scuote le percuote cellule e carote e carote parliamo di carote garoneWell duuuuc carote la sinfonia e prezzo ritmo della musica ... e carino Questo lo approvo Il video fa cacare Scusate la parola Fa cacare il video Quindi questo lo disapprovo La canzone Allora la voce di questo cantante è buona Secondo me sa cantare E' bravo Quindi gli do anche un pi piace C'è un like che è bravo a cantare su questa cosa Rispetto agli anghizionini che fa piangere Scusate Fa piangere E' vergognoso Però la canzone non lo so Secondo me poteva farla migliore Perché alcune parole Non hanno senso Ecco perché secondo me questo video C'è azzecca precisamente a fine Nel youtube e nelle cantanti famosi Per cavolate Per canzone assoluta Non mi ricordo come il titolo della serie Purtroppo questa serie è stranamente il secondo video Non so se avranno detto un continuo più avanti Presumo di sì Perché se è già uscito questo secondo video In video ci sarà qualche altro cantante strano Però più che altro non è proprio strano Perché diciamo Rispetto agli anghizionini magari si salva un po' di più Solo che comunque la canzone Secondo me se scriveva delle parole migliori Era meglio La canzone carote La frase carote E' buona Alcune parole dette sulle carote Sono perfette della canzone Però alcune cose non hanno per niente senso Quindi Non lo so Non saprei che il voto da anche tagli E' questo Cioè Da una parte si salva la canzone Cioè Una parte della canzone dico E' buona Parte della canzone E' orribile Ha fatto anche una seconda canzone Che Ti voglio al mio funerale Allora Non lo so se Io non lo so se forrà anche un video Sulla seconda canzone Però Se volete una reaction Alla seconda canzone Lasciate like questo video E sicuramente In pochi giorni Probabilmente vi caricherò Un altro reaction Sembra Youtube Famose cavolate Con la seconda canzone Sua Ma ovviamente Dovete lasciare like E niente Se il video vi è piaciuto Come sempre Vi lasciate un bel mi piace E niente Ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao